Camilla, duchessa di Cornovaglia, ha parlato del suo futuro ruolo reale e si è impegnata a continuare a sostenere una causa molto importante che le sta molto a cuore quando è la regina consorte. All'inizio di questo mese, la regina Elisabetta II ha annunciato il suo sincero desiderio che Camilla, duchessa di Cornovaglia, sarebbe stata in tempo conosciuta come regina consorte quando il principe Carlo sarà re. E in un'intervista alla presentatrice Emma Barnett, Camilla ha parlato di come la dichiarazione della regina sia stata un grande onore. Camilla ha anche affrontato una causa che intende sostenere quando la corona passerà a Carlo, Camilla ha recentemente parlato con la signora Barnett al Clarence House per Woman Hour e BBC Breakfast, dove si è riunita con Diana Parks, la cui figlia Joanna Simpson è stata uccisa dal marito nel 2010. Camilla ha detto, certo è un grande onore, diventare regina consorte, non potrebbe essere nient'altro. Ma lo aiuta. Continuerò con queste cause. Sai se comincio qualcosa del genere, non rinuncerò a metà canale, continuerò solo a cercare di aiutare persone come Diana, spero di farlo per tutta la vita. L'impegno della duchessa nel sostenere le persone vittime di violenza domestica è ben documentato, con la duchessa che ha prestato il suo tempo a diversi. Enti di beneficenza in questo settore Da quando è entrata a far parte della famiglia reale Un'ente di beneficenza per la violenza domestica ha affermato che la notizia che Camilla continuerà a sensibilizzare sulla questione poiché i Queen sono stati un meraviglioso sostegno degli enti di beneficenza in questo settore. Ruth Davison, CEO di Refuge, ha dichiarato a Express.co.uk, la notizia che su Altezza Reale Duchessa di Cornovaglia si è impegnata a continuare il suo lavoro per buone cause quando sarà regina consorte è una meravigliosa approvazione delle varie organizzazioni sostenute dalla duchessa. Non sono sorpreso di vedere sua Altezza Reale fare questo impegno, il suo sostegno a Refuge ad altre organizzazioni nel settore VAWG e sia chiaro che autentico.